La comunità di Agropoli piange la scomparsa di Enzo Anaclerico, storico commerciante di calzature. Una persona conosciuta da tanti per la sua semplicità, per il suo sorriso e per la sua bontà d'animo. Enzo ha lavorato una vita intera senza mai stancarsi nel suo negozio di calzature, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Il ricordo del tuo animo buono e generoso resterà per sempre nei nostri cuori. Lo ricordo ai tempi della UGEND, scrive un cittadino su Facebook, raccontando di Enzo quando era presidente. Io volevo giocare a pallone ma fin dai primi allenamenti risultai molto scarso ed anche gli amici me lo fecero notare. Lui, por di non mortificarmi, con un conseguenziale allontanamento dal club, mi diede una pacca sulla spalla e come un padre mi disse, tu sei importante per la squadra, loro useranno i piedi e tu il cervello, ho bisogno di un collaboratore alla segreteria e così fu. Anche se per un breve periodo rimasi in squadra con quel ruolo e ricordo Caciotta e Mastachille che mi parafrasavano vano l'ammazzo e torno, quando il calcio e la sua dirigenza erano una vera famiglia. Ciao presidente, ti ricorderò per sempre, eri una persona per bene e di cuore. Anche il primo cittadino di Agropoli ha espresso un messaggio di cordoglio ai familiari. Esprimo a nome mio e dell'intera amministrazione comunale cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Anaclerico, storico rappresentante dei commercianti di Agropoli, la cui esistenza è stata dedicata al lavoro e alla famiglia. La sua dipartita lascia un vuoto in tutti noi. Ciao Enzo, anche la redazione di Cilento Channel si unisce al dolore che ha colpito i familiari per la grande perdita e ti ricorda con affetto.